Ci sono cose difficili da spiegare, come raccontereste, in una parola, in un sogno, in un concetto. Una storia millenaria, in una parola, un luogo che risuona della vita di tante persone. Quali sono i dettagli che rendono unico un territorio? L'odore della terra? Che profumo ha una cattedrale? È un affresco? Forse si può raccontare con un suono, con una parola. In fondo noi sappiamo perché le persone dovrebbero venire qui. Davvero. Per noi è semplice. Per noi che qui viviamo. Perché abbiamo scelto di abitare gli spazi della nostra storia. Dove ogni dettaglio ci permette di tornare all'essenza delle cose importanti. Ritrovare l'ispirazione per la vita. Respirare. Viaggiare attraverso lo scambio di storie. Le persone. Per noi Orvieto è vita. Orvieto. Città viva. Esperienza autentica. Grazie. 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 Grazie.